Castello Giusso è una splendida struttura per ricevimenti ed eventi che si affaccia sul Golfo di Napoli. Coniuga raffinati scenari e una rosa di servizi tutti personalizzati. L'antica dimora, totalmente ristrutturata per preservare il suo splendore, offre diversi ambienti adatti a ospitare il vostro banchetto nuziale. Dispone di una grande sala da pranzo arredata con mobili antichi e dettagli raffinati e di salette per ricevimenti più raccolti con capienza dalle 20 alle 250 persone. Gli esterni sono altrettanto suggestivi. Il giardino con piscina e la terrazza panoramica con pergolato sono perfetti durante la bella stagione. La capienza totale è di 500 invitati. Lo staff della struttura sarà pronto a soddisfare ogni vostra esigenza in tutte le fasi organizzative del banchetto, offrendovi un impeccabile servizio di accoglienza e assistenza in sala nel corso dell'evento.